Figlia dello sceneggiatore Piero, lavora al cinema con Alberto Sordi e Carlo Verdone. Per il primo è la figlia di Gasperino in Il Marchese del Grillo. 1981, ed è coniugi Bonettini Io so che tu sai che io so. 1982, per il secondo la ragazza dell'Ippieruggiero in Un Sacco Bello. 1980, un agente di vendita in Borotalco. 1982, è una poliziotta in Il Bambino e il Poliziotto. 1989, partecipa alla prima stagione della serie TV I ragazzi della terza AC. 1987, interpretando il personaggio di Luana. Verso la fine degli anni Ottanta abbandona la carriera di attrice e si trasferisce a Milano. Dove si sposa e inizia a lavorare nella pubblicità fino a divenire articolo director presso l'agenzia. Young and Rubicam, dalla sua unione sono nati due figli.